eccoci a noi ragazzi esercizio per le spalle quindi per i deltoidi in stazione retta braccia flesse gomme di altezza spalle questa posizione le gambe semipiegate l'addome leggera retroversione si spingono le braccia verso l'alto e si ritorna si effettua il movimento contro resistenza cioè contraendo intensamente le spalle quindi deltoidi variante a questo si può fare si può fare con le mani che spingono verso il grado della spalliera verso l'alto si attivano i deltoidi e si rilassa a casa si può fare ad esempio verso l'alto spingendo la serranda di una finestra grazie movimento salute alla push up grazie a tutti